Per il ciclo Agatha Christie E' stato un assassinato, no? Cosa? E' stato commesso un delitto, mi creda! Ma per fortuna, Miss Marple l'indaga Non mi va chi fica il naso nei miei affari Precedendo quasi sempre l'ispettore La informerò quando il caso sarà risolto Assassinio al galoppatoio Giovedì alle 20.55